Ciao a tutti, vi presentiamo i nostri cagnolini. Questa è Macchia, che si può anche dire Macchia, o Macchius, o Macchia, ma solo che lui è Macchietto. Allora lui, adesso andiamo a fare un giro di pregazione a pelle. Questa è una femmina, Macchia. Farò un giro nei cuccioli e ancora si sta preparando. Si può chiamare in tutti i modi. Oggi faremo un video con loro che li portiamo a fare un giro giù con loro. E' tutto. Ciao bambini. Oggi, adesso facciamo un attimo stop, cogliendo, facciamo giù. Andiamo. Adesso i bambini stiamo facendo i cagnolini. Stiamo facendo, qua stare, fare i bionini che hanno la pipì e la cazzano, proprio. e dopo le facciamo fare un giro, una coschietta. Prima li rilasciamo un po', un pochino. Adesso facciamo, guardate come, cos'hanno come Macchia, andiamo. Si, adesso ve la facciamo vedere da vicino. Guardate lì com'è. Eccola. Adesso li facciamo fare di corsone. Adesso è un Macchia. Guardate che bello. Ecco, adesso siamo qua giù. E guardate che faccio giù la strada del nostro giardino. Com'è bello. Stiamo capendo. Guardate com'è bello il nostro giardino. E anche corrono come Macchia, che quando vogliono veramente, corrono come Macchia. Questa Macchia ha un palattoncio della giardino, anche se è ancora piccolino. Io quando ero piccolo avevo il collare rosso, ma adesso l'abbiamo cambiato e l'abbiamo peggio verde. Patrizia, adesso, Rosa, però sapete perché l'abbiamo cambiato il Macchia? Perché l'abbiamo cambiato il Macchia? Perché l'abbiamo tirato e si è rotto. Alla tre lì perché era tutto sporco. E quindi io lo voglio e dobbiamo cambiare. Ma adesso, bambini, siete pronti? Facciamo un giro dell'istituto. Adesso prendiamo i nostri cagnolini, i macchiettini e andiamo a fare un giro. Adesso, adesso vi salutiamo per un attimo e vi mando questo fiore. Ecco. Adesso andiamo, bambini, siete pronti? Andiamo! Sì, 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 sì. Ciao, bambini, adesso? Vabbè, non l'abbiamo fatto perché la mamma ha detto no. Allora, adesso facciamo una camminata qua. Bambini, adesso facciamo la camminata qua. Adesso facciamo la camminata qua. Adesso facciamo la camminata qua. Adesso facciamo la faccia e ci mettiamo aperto. Perché adesso andiamo a scocciare. Adesso andiamo a faccia e facciamo stop al telefono. E poi accendiamo anche il telefono. E poi vedete che è ancora più lungo. Ciao!